pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati quarta domenica di avvento ormai prossimi al natale abbiamo la gioia di contemplare il testo dell'annunciazione che mediteremo soffermandoci in particolare sull'atteggiamento e sulla fede di maria per capire la liturgia è bello dare comunque uno sguardo alla prima lettura che è tratta dal secondo libro di samuele e narra un episodio accaduto nella vita del re davide siamo circa mille anni prima di gesù il re davide ha appena consolidato il regno di israele stabilendosi a gerusalemme ricorda con gratitudine l'agire di dio nei suoi confronti che l'ha preso dai campi di pascolo e l'ha condotto al trono e vedendo l'arca dell'alleanza posta sotto una tenda avrebbe a cuore di costruire un grande tempio al signore così da avere come nuovo cittadino dio stesso all'inizio il profeta nata gli dà il via libera ma la notte il profeta fa un sogno dio gli parla e boccia l'iniziativa del re davide dicendogli guarda che non sei tu a fare una casa a me quasi che io possa esservi contenuto dentro ma sono io che sto facendo qualcosa per te e ti farò una casa cioè ti darò una discendenza e il tuo regno durerà per sempre tutto questo si concretizza nel vangelo dio si fa uomo in gesù che discendente di davide e viene ad instaurare a portare il regno di dio che non è un regno politico ma è la presenza di dio che regna stabilmente nel cuore di chi lo accoglie ora qual è il primo punto interessante il signore dice a davide e con lui a ognuno di noi che non siamo noi che per primi offriamo cosa lui siamo chiamati a sfornare chissà quali prestazioni per imbonircelo o chissà quali sforzi per meritarci le sue grazie no miei cari l'iniziativa è sempre di dio è lui che ci ha amati per primo è lui che ci ha creati è lui che ci ha salvati in gesù è lui che ci viene incontro e bussa al nostro cuore è lui che ci offre il suo amore il suo perdono la sua salvezza ci chiede anzitutto di essere accolto di lasciarci amare perdonare dopo parte la nostra risposta quindi la nostra ricerca di lui il nostro voler vivere in comunione con lui l'impegno a lottare contro il nostro egoismo e contro la tentazione nella vita spirituale il primato è sempre della grazia poi viene la nostra risposta e quindi il rinnegamento di sé per seguire il signore si parte da lui dal lasciarci parlare al cuore da lasciarci amare dal pregare dal coltivare la vita interiore la preghiera la meditazione la vita sacramentale la sua presenza in noi e poi ripeto la nostra risposta il nostro sì al suo amore un po' come è stato per maria lo vediamo chiaramente nel vangelo l'iniziativa di dio la proposta di dio il di più che viene offerto e da parte di dio maria accoglie questa proposta e dice il suo sì pieno di gioia abbiamo detto che l'iniziativa di dio anche nella vita di maria infatti è lui che invia un angelo che non ci viene specificato come entri nella vita di maria e le porta un annunzio anche qui abbiamo un dato interessante dio anche a noi ci rivolge ogni giorno tanti annunci ci parla in tanti modi ci parla attraverso il vangelo e ci parla attraverso la liturgia nei sacramenti e ci parla attraverso le ispirazioni dello spirito santo nel cuore e ci invita a saperlo cogliere negli eventi della vita e ci interpella attraverso le persone che abbiamo accanto e ci parla attraverso un fratello una sorella che ci portano un annuncio del signore insomma ogni giorno ci parla in tanti modi e che cosa dice a maria rallegrati rallegrati piena di grazia perché perché il signore è con te abbiamo dunque un annuncio di gioia caire rallegrati in greco era un saluto normale ma imparentato con la parola caris grazia cioè entra la grazia del signore la sua bontà la sua generosità questo è dio viene per portare grazia gioia pienezza in gesù ci offre se stesso la comunione piena con sé la sua presenza in noi e appunto abbiamo il motivo del perché rallegrarsi perché il signore è con te e dalla tua parte la fede inizia da qui dall'aprirsi alla grazia del signore dall'entrare in relazione con lui dal credere al bene che dio non è una minaccia alla nostra felicità ma è la realizzazione più piena e più vera della nostra umanità che ci conduce alla santità e vedete c'è un annuncio di gioia e un invito che dio fa a maria una proposta di poter entrare nella sua vita perché si possa far carne in lei cioè le propone un di più incredibile maria era una fanciulla vergine era una ragazza che va sia un progetto di vita ma mai si sarebbe sognato una cosa del genere e che cioè dio stesso si facesse carne in lei quasi come a dirci che il signore non viene a togliere ma dietro le sue proposte c'è sempre un di più che ci viene ad soffrire e questo vale per la conversione chi crede in gesù e lo accoglie come signore viene perdonato dal peccato e viene riconciliato con dio e ha la possibilità che lo spirito di dio regni nel suo cuore di poter vivere profondamente unito a lui e questo vale per l'intera vita cristiana più coltiviamo il rapporto con il signore più meditiamo la sua parola più cerchiamo l'unione con lui e lottiamo contro il peccato il nostro egoismo più la sua parola si fa carne nella nostra vita più viviamo uniti a lui potendo diventare una cosa sola con lui e questo vale per una vocazione cioè se il signore mi chiama a qualcosa dietro c'è un bene immenso per me per tante anime anche se quello a cui dio mi chiama non è ciò cui avrei immediatamente pensato e ciò vale per un'attività che lui mi chiama a compiere e ciò vale persino nella sofferenza che in lui diventa una chiamata ad amare ancora di più potendomi conformare al mistero di gesù crocifisso e offrendo per la salvezza di tante anime ecco dio che viene a offrire sempre un di più non viene a togliere ma a donare ed è bellissimo l'atteggiamento di maria lei si pone sul piano del com'è possibile cerca di ragionare per bene abbiamo il termine dialoghizzo mai riflette su ciò che le sta accadendo aperta la possibilità che dio possa realizzare tutto ciò nella sua vita ecco ci insegna un atteggiamento bellissimo quello di meditare di riflettere la fede non manda a spasso la ragione la porta al suo limite estremo più alto maria si chiede e ci insegna a chiederci ma dove mi conduce questa cosa cosa significa questo avvenimento cosa mi sta chiedendo dio attraverso questa intuizione o questa parola che mi ha colpito o questo che sto vivendo sarebbe inutile chiedere a dio che ripeta i suoi passaggi allo stesso modo nella nostra vita ma possiamo soffermarci meditare nella preghiera e così poter arrivare a maturare la volontà di dio nella nostra vita in modo da dirgli i nostri sì ragionevoli fiduciosi certi alla sua volontà maria dunque si pone sul piano del com'è possibile riflette dialoga con il signore medita su ciò che le sta dicendo e una volta maturato nel suo cuore ecco il suo sì un sì pieno di gioia un eccomi con tutta me stessa sono la serva del signore avvenga di me secondo la tua parola e il suo è stato non un sì detto una volta sola ma un sì ripetuto continuamente tutta la sua vita è stata una serie di sì al signore o meglio potremmo anche dire un unico ininterrotto grande sì vedete nel suo sì maria non è che avesse tutto chiaro cosa le sarebbe accaduto quali difficoltà avrebbe dovuto affrontare o quali dolori avrebbe dovuto patire e se ci pensiamo la situazione era tutt'altro che facile al suo tempo una donna trovata incinta prima del matrimonio doveva essere denunciata e condannata alla lapidazione avrebbe dovuto spiegare che era incinta per opera dello spirito santo ma vedete maria non si lascia bloccare dalle paure non si sofferma sulla pretesa di aver tutto chiaro ma si fida del signore sa che il signore ad averla interpellata e si fida che lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato in lei papa francesco ci ha detto che lei ci insegna a riconoscere il momento favorevole in cui gesù passa nella nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa quando noi sentiamo nel nostro cuore ma io vorrei essere più buono più buona oppure ma io mi sono pentito di quello che ho fatto il signore che bussa ti fa sentire questo la voglia di essere migliore la voglia di rimanere più vicini agli altri a dio stesso aggiungiamo la voglia di donarti di più passano delle intuizioni bellissime ecco se tu senti questo fermati è il signore è lì e vai alla preghiera o forse alla confessione ma ricordati bene se senti quella voglia di migliorare è lui che bussa non lasciarlo passare che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti